Una panoramica sul sistema pensionistico in Italia è anche alla luce del nuovo accordo tra sindacati e governo. Questo è il tema al centro del Consiglio Generale della Federazione Nazionale Pensionati della CISL che si è tenuto ad Arezzo. Dopo dieci anni siamo riusciti finalmente a sottoscrivere un accordo con il governo che è stato poi inserito nella legge di bilancio 2017, oggi in approvazione alla Camera dei Deputati ed inviata a Bruxelles per le relative verifiche. Abbiamo ottenuto innanzitutto l'aumento della platea alla quale è indirizzata la cosiddetta 14esima mensilità. Abbiamo poi ottenuto la no tax area portata a 8125 per tutti i pensionati, quindi anche per gli under 75. Abbiamo ottenuto che il governo inserisse sempre le leggi di stabilità per il 2019, la reintroduzione della legge Prodi, la 388, per la rivalutazione delle pensioni e questo significa che le pensioni saranno tutte rivalutate perché la Prodi prevede una rivoluzione di tipo orizzontale, non verticale come adesso la letta. Abbiamo sul tavolo ancora la separazione netta fra la previdenza e l'assistenza e un'altra cosa importante che abbiamo è la creazione di un paniere Istat più adatto ai consumi dei pensionati. Diciamo che ai pensionati viene finalmente ridata un po' di dignità, non sono più considerati un bancomat per lo Stato ma persone che hanno lavorato tutta una vita, che hanno versato i contributi, che hanno sempre pagato le tasse come adesso e quindi devono essere dei cittadini uguali esattamente a tutti gli altri.